Se non ce l'avete, questi piatti, sapete come sono? Sì, di plastica, di carta, per riciclarvi. Sì, e poi la cosa bella è che è così, poi invece, anche mia nonna ha fatto una torta e secondo me è una cosa giusta portare da casa delle torte fatte in casa o anche dei biscotti e delle cose, perché secondo me le cose, fatte in fabbrica, in fabbrica sono un pochino, cioè a me non piacciono, preferisco farmele da me. È vero, perché in qualcosa potrebbero anche mettere delle cose, cioè non so, se le prendi in una fabbrica potrebbero mettere delle cose, diciamo, che non sono molto adatte e quindi è un po'... Comunque l'importanza di questa festa è che non bisogna buttare via niente, utilizzare tutto. Appunto, bisogna buttare tutto. La cosa che mi piace? Una cosa che mi piace tantissimo, che i piatti quest'anno sono di carta e perciò si possono riciclare. Sulle cofese? Tu la fai, la raccolta differenziata? Io sì, la faccio ed è molto... In che senso, come? Dividi la carta e... Ah sì, dividiamo la carta con la plastica, con il vetro, così il mondo è più sano. Nella nostra classe facciamo la corta differenziata con la carta, la plastica e l'altra parte, non ricordo come si chiama. Grazie. Grazie.